story time evoluzione radio un saluto a tutti voi amici di radio canale italia io sono nicole e vi do il benvenuto su story time dove si raccontano in realtà delle quali voi siete protagonisti oggi ho il grandissimo piacere di ospitare i nostri microfoni marina rossi che è un insegnante di yoga e life coach immaginale ciao marina ciao nicole grazie allora questa occasione è un piacere ti chiedo così in pillole perché tutti dovrebbero affidarsi ad un life coach perché il percorso della vita è complesso e una persona che ti affianca ti sostiene ti aiuta e ti chiarisce alcuni punti per arrivare ai tuoi obiettivi secondo me è importante è un aiuto è appunto un qualcuno su cui fare affidamento quando ci sono dei dubbi e non fa il lavoro al posto tuo ti spinge a farlo il lavoro ma in uno stesso tempo e non ti senti sola e quindi credo che ciascuno di noi abbiano proprio il così bisogno e necessità soprattutto in certe fasi della vita di essere affiancata da un life coach ma tu sei una life coach immaginale cosa vuol dire c'è un qualcosa in più o in meno dipende dai punti di vista diciamo che il life coach immaginale è un coach molto è un coaching molto particolare perché usa tantissimo le immagini l'immaginazione una certo tipo di narrazione che aiuta a cambiare le immagini della vita e quindi fa un lavoro molto più profondo anche nel caso di un obiettivo banale come quello di ad esempio cambiare lavoro qualcosa di molto concreto da realizzare il life coach immaginale lavora sull'anima cioè su quella parte profonda saggia immensa che ciascuno di noi ha e quindi ti aiuta ad allargare la visione davvero in modo completo non solo per raggiungere l'obiettivo ma anche per cambiare proprio tutta quanta la propria vita che bello wow mi porti in un mondo che non conoscevo ma adesso voglio fare due passi indietro e ti chiedo come ti sei avvicinata a questo mondo e qual è stato il tuo percorso per farsi di diventare appunto sia insegnante di yoga sia life coach immaginale un percorso lungo perché non sono giovanissima e che mi ha permesso di vivere tante vite in una veramente da proprio dal punto di vista letterale cioè io sono iniziato con una formazione che non c'entrava nulla con con il mondo dello spirito con lo yoga con life coach perché ho fatto la commercialista per tanti anni ma contemporaneamente già all'età di 23 anni ho iniziato l'avvicinamento allo yoga proprio per un mio bisogno fortissimo di comprendere meglio me stessa di stare meglio e di approfondire temi della vita che sicuramente la mia professione di commercialista non erano affrontati quindi in parallelo queste queste due vite tre se ci vogliamo mettere la mia vita di madre e quindi di anche una vita familiare molto intensa queste tre vite sono andate in parallelo fino anche a un certo punto diciamo che lo yoga ha prevalso e quindi ho iniziato a fare tutta una serie di formazioni in in questo ambito e piano piano ho rallentato sempre più il contatto con l'attività nel campo professionale del diciamo dell'amministrazione finanza diventando prima formatrice in vari centri di formazione e poi mi sono buttata nello yoga prima e nel life coaching questi ultimi anni e non ti sei fermata sulla life coaching classico mai scelto proprio l'immaginale no perché perché il mondo dello yoga già mi aveva aperto al mondo dello spirito poi la mia passione era anche in tanti altri campi ad esempio mi sono occupata di sciamanesimo e ho passato un periodo buddista nella mia vita sono sempre stata molto molto curiosa e quindi ho esplorato davvero tante vie diverse e alla fine il life coaching immaginale è stata come una sintesi di queste vie diverse mi hanno fatto capire che non mi ero dispersa in mille direzioni ma tutto ha fatto sì che io adesso avesse un'esperienza davvero molto molto completa sia dal punto di vista dell'attività corporea fisica che lo yoga mi ha dato sia dal punto di vista proprio del della parte di life coaching quindi di guida le persone per realizzare i loro obiettivi è stata una sorta di completamento si è andata a completare quello che già stavi seguendo si può dire sì 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 assolutamente sì andando nello specifico di quello che tu offre alle persone quali sono i servizi che si possono trovare da te ma allora parte i corsi di yoga che sono nel mio centro a reggio emilia e nello specifico della parte di life coaching io faccio sessioni individuali sia in presenza reggio emilia sia online su piattaforma zoom quindi in realtà ho clienti in tutta italia non solo anche qualche italiano all'estero e poi organizzo gruppi sia serate in presenza di coaching di gruppo diciamo sia anche ritiri e vacanze in vari posti sia d'italia che all'estero che bello e quindi per mettersi in contatto con te ti si può cercare sui social per esempio sì ho un sito ranima.it perché ranima è il mio nome spirituale diciamo che mi è arrivato molti anni fa nel mio percorso e quindi non lo uso diciamo che io mi piace farmi chiamare marina però dentro di me ranima è lì che lavora il mio sito si chiama ranima.it e poi sono presente su facebook instagram ho un piccolo canale youtube dove ogni tanto ho inserito qualche qualche video qualche meditazione qualche qualche così pillola di life coach è bello io quello che posso dirti marina è farti i miei migliori auguri per il futuro perché comunque stai portando avanti una cosa molto interessante ti prendi cura del prossimo e questa cosa è una cosa veramente molto importante ti ringrazio per questa bella chiacchierata qui ai microfoni di story time spero che ti sia piaciuta molto sono molto contenta noi ci rivedremo altre volte senza altro ringrazio te ringrazio voi amici che come sempre ci seguite ci sostenete e noi ovviamente ci sentiamo alla prossima storia ciao story time evoluzione radio